Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Campania in zona rossa a partire da oggi e fino al prossimo 21 marzo. Intanto continuano a salire i contagi nel Vesuviano. Poi la cronaca, si intensificano i controlli della Guardia di Finanza nello scorso fine settimana e non mancano le sanzioni. Un'altra occasione persa per il comune di Tore del Greco che non accede ai fondi per il dissesto idrogeologico. Ne abbiamo parlato con l'onorevole del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo. Oggi 8 marzo, festa internazionale della donna, non mancano le iniziative sul territorio. Lo scorso sabato al Palazzo Baronale, al comune di Tore del Greco, la presentazione di marzo Prevenzione Donna. Un'importante iniziativa pensata per la salute e la prevenzione delle donne. Piantati anche due alberi di mimose nello spazio verde di Palazzo La Salle, al comune di Tore del Greco. Un'iniziativa voluta dalle guardie ambientali dopo il ritrovamento di una statua raffigurante la Madonna. In chiusura lo sport, nuova sconfitta casalinga per la Turris che rischia di avvicinarsi alla zona retrocessione. Questo è molto altro. Guardiamo i servizi. Campania in zona rossa da oggi. Entrano in vigore le nuove restrizioni annunciate venerdì dall'ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Fino almeno al 21 marzo, le limitazioni saranno le seguenti. Oltre al normale coprifuoco, divieto di spostamenti di qualunque tipo fra le 22 e le 5 del mattino. È vietato uscire di casa in qualunque ora del giorno, salvo per motivi di salute, lavoro o altre necessità, come ad esempio fare la spesa. Non sarà più consentito nemmeno andare a far visita ai parenti e amici come permesso in zona gialla o arancione. Le scuole resteranno chiuse, ma nella regione la sospensione della didattica in presenza era stata decisa già dal 1 marzo con ordinanza di De Luca. È sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. Sono sospese invece le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, come farmacie e tabaccherie. Una decisione drastica, ma necessaria, come ha commentato lo stesso governatore De Luca nella diretta di venerdì. Il presidente ha incolpato soprattutto i cittadini e gli assembramenti in piazze e lungomare di febbraio. Preoccupa all'incremento dei contagi. Negli ultimi giorni il rapporto tra positivi e tamponi nella nostra regione non è mai sceso sotto il 10%, con oltre 2.000 nuovi contagi al giorno. Si registra anche un incremento di terapie intensive e di tecessi. Il timore è di ridursi alla situazione di quest'autunno. Critica la condizione dei comuni del Vesuviano. Solo nel weekend a Torre del Greco si sono registrati 103 nuovi casi di positività a fronte di 27 guarigioni. 1.131 i torresi attualmente contagiati, di cui 63 ospedalizzati. A Torre Annunziata sono 18 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 125 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 14,4%. Al contempo si registrano una guarigione del decesso di un uomo di 67 anni. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana, a ridosso del ritorno della campagna in zona rossa, il dispositivo dei controlli sulle misure anti-Covid. In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate, tra il capoluogo e la provincia, 1.391 persone e 175 attività commerciali, 159 le sanzioni complessive. Il potenziamento dei controlli ha riguardato come di consueto soprattutto Napoli-Città. Il dispositivo, composto dal gruppo pronto impiego e dal primo gruppo, integrato dai rinforzi della compagnia di Torre Annunziata, tra i quartieri di San Ferdinando, Piazza Carlo III, Piazza del Gesù e Piazza Bellini, hanno sanzionato decine di persone sorprese in strada senza un valido motivo e hanno sequestrato nel corso dei controlli, anche grazie all'ausilio di cari antidroga, hashish e marijuana, a carico di tre responsabili. All'esterno dell'area portuale, il secondo gruppo, durante tutto il fine settimana, ha sorpreso in piena notte in violazione del colpio fuoco più di 40 persone provenienti dalle città della provincia. Inoltre, lo stesso reparto, a seguito della segnalazione di alcuni passanti, è riuscito a trarre in savio e a far trasportare in ospedale un uomo in mare in difficoltà nelle acque di Molosiglio. Altre sanzioni anti-covid anche in provincia, a Portici, a Pomigliano d'Arco, Caivano, a Fragola e Quarto, dove le fiamme gialle hanno sanzionato decine di soggetti senza mascherina, sorpresi fuori dal comune di residenza oppure trovati in strada durante il coprifuoco. A San Gennaro Vesuviano, la compagnia di Ottaviano ha sanzionato la titolare di un centro sportivo e i partecipanti ad una partita di calcetto, mentre il gruppo di Fratta Maggiore e la compagnia di Casanuovo hanno verbalizzato rispettivamente a Caivano e San Sebastiano a Vesuvio i gestori e i clienti di due palestre che erano in funzione e aperte al pubblico nonostante i divieti. Inoltre, come spesso succede dai controlli anti-covid, sono emerse anche situazioni illecite e tipicamente di interesse delle fiamme gialle. Nel capoluogo, una pattuglia dei baschi verdi ha rinvenuto nel quartiere fuori grotta nell'abitacolo di un'auto abbandonata in un cortile, 27 cartucce calibro 22. Il primo gruppo, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dugane e dei Monopoli, ha accertato presso un bar del quartiere Scrundigliano la commissione del reato di intermediazione nell'ambito delle scommesse sportive, sequestrate due apparecchiature telematiche illecitamente collegate alla rete, nonché circa 80 ricevute di gioco attestanti all'avvenuta attività di scommessa. Fermati anche i soggetti mentre effettuavano la giocata ed il relativo pagamento della posta. Denunciato per esercizio abusivo e illecita organizzazione di pubbliche scommesse sportive, il titolare dell'esercizio, un 29enne di Napoli. A Licola la compagnia di Pozzuoli ha tratto in arresto un 27enne originario di Aversa che aveva nascosto nell'intercapedina di un muro una borsetta contenente marihuana, acisce e cocaina già confezionata in buste di celofan, carta di alluminio e ovulo in plastica per un totale di circa 50 grammi. Mentre a Caevano il gruppo di fratta maggiore ha sequestrato diversi grammi di cocaina nei confronti di due giovani. Onorevole Luigi Gallo, ancora una volta il comune di Torre del Greco perde un'importante opportunità. Sì, il comune perde un'opportunità, la prendono in pieno invece altri comuni, a noi limitrofi, Bosco Trecase, Castellammare e cantieri. Cantieri sul dissesso idrogeologico, quindi interventi quando vediamo che magari una strada subisce una voragine, è un problema di dissesso idrogeologico. Noi apriamo gli alvei che tutti conosciamo perché poi portano microplastiche, cotonfioc a mare, anche TV City se ne è spesso occupato di questo tema. è un peccato che l'amministrazione non sia stata presente. Devo dire che anche la Gori è un problema per questa città perché la Gori ha le informazioni che a volte la stessa amministrazione non riesce a ricevere. Su questo io ho collaborato con i dirigenti del comune a chiedere documentazione e la Gori è in forte ritardo a fornirla. Senza questa documentazione a volte non si possono fare i progetti, quindi ci vuole la collaborazione anche di questo pezzo purtroppo privatizzato della gestione dell'acqua che non aiuta la città. I comuni che hanno aderito, di quali fondi potranno beneficiare? Fondi sia per l'edilizia scolastica, fondi per il dissesso idrogeologico e fondi per il rifacimento dei manti stradali, ponti e viadotti. Quindi progetti ce n'erano da poter presentare e ancora una volta io sono qui a tendere la mano, a stimolare la città e i sindaci a fare qualcosa per riqualificare la faccia della nostra città. Sostenere e promuovere la prevenzione della salute delle donne è l'obiettivo di marzo Prevenzione Donna. L'iniziativa presentata lo scorso sabato a Palazzo Baronale è stata promossa dal comune di Torre del Greco con la partecipazione della Formit Inner Wheel Club Torre del Greco Comuni Vesuviani, Wheel Trasporti, Associazione Solo Donne Rosanne e Associazione Atena con il sostegno della Regione Campania e dell'ospedale evangelico Betania. Una iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale in sinergia con quelle che sono le associazioni operanti nel settore e appartenenti a questo territorio. Come si vede la sinergia dà la possibilità di realizzare degli interventi a vantaggio della collettività, rientriamo in quella che è la mission proprio delle associazioni di volontariato, delle associazioni del terzo settore e della cooperazione sociale che si mettono a servizio della collettività per dare delle opportunità. Oggi il tema è quello della prevenzione. In sinergia con l'ospedale Betania, realizzato questo camper della solidarietà andando presso diverse zone dislocate sul territorio torrese per dar sì e dare la possibilità a queste donne di fare una visita oncologica, ginecologica e senologica. Dopodiché, nel caso in cui si dovessero ravvisare, aspichiamo di no, di dovessero ravvisare delle difficoltà ancora più gravi ed ecco che l'ospedale Betania offre degli ambulatori solidali quindi tutto totalmente gratuito e quindi prende in carico queste persone per far sì che ovviamente questa problematica possa trovare una felice soluzione. Questo momento è un momento molto importante. Dopo il Covid, un anno di Covid, ci ritroviamo a potere di nuovo essere presenti sul territorio per aiutare e il comune di Toro del Greco, città mia nativa, ha voluto riprendere in mano questa situazione. Io sono presidente dell'ospedale evangelico Betania a Napoli, a Ponticelli. Questo è bellissimo e possiamo oltretutto dire che noi, ancora di più come fondazione, che è il ramo con cui noi siamo proprietà dell'ospedale, riusciamo ad avere anche tutta una serie di opportunità a livello territoriale per poter dare aiuto anche attraverso altri progetti. Quattro appuntamenti sul territorio dalle 9 alle 13 per sottoporsi gratuitamente a check-up senologico e ginecologico. Si parte oggi all'Istituto della Dolorata in Via Comizi, poi venerdì 12 a Villa Macrina, sabato 20, presso la sede dell'Associazione Atena in Via Nazionale. Ultimo appuntamento il prossimo 26 marzo presso il Comitato di Quartiere Rinascita in Piazzale Sant'Anna. La prevenzione e la salute della donna è al centro delle politiche della regione Campania e pensare che il marzo donna sia un'occasione perché la cura della donna, il benessere della donna, attraverso la prevenzione, screening, che sono importanti e vitali per le donne, fatto qui a Torre del Greco, promosso dal Comune di Torre del Greco, dalla delegata alle pari opportunità, la consigliera Mennella e con la collaborazione fattiva, perché poi sono coloro che realizzeranno il progetto, penso all'ospedale evangelico Villa Betania, con la presidente Vitiello, mi sembra veramente un'iniziativa significativa per le donne di Torre del Greco e non solo. Oggi parliamo di salute e prevenzione, ma un tema particolarmente importante è anche quello della conciliazione dei tempi di lavoro e della famiglia per le donne che hanno bisogno di sapere e di avere vicine le istituzioni. Assolutamente sì, in Regione Campania negli ultimi cinque anni abbiamo tentato di fare un lavoro significativo e ieri, lo dico qui in anteprima, sono orgogliosa di aver firmato una proposta di legge sulla parità salariale. Sarà discussa, insomma, sarà incardinata nei prossimi giorni in commissione. Sono iniziative che sono importanti, servono alla salute delle nostre donne e quindi massima disponibilità da parte dell'amministrazione comunale. Dobbiamo prevenire quella che è la cura alla salute, dobbiamo soprattutto fare in modo che le donne possano salvaguardarsi e quindi abbiamo pensato un'iniziativa da poter stare vicino, ecco, partendo proprio dal mese di marzo, ma continuando con una continuità costante per poter fare in modo che queste donne possano comunque stare sempre attente alla cura dal punto di vista di problemi oncologici. Questa è un'iniziativa importante perché poi, effettivamente, in questo periodo di Covid, nell'anno della pandemia, ci siamo trascurate come donne. Parliamo addirittura di un aumento del 30% dei casi di tumore al seno e questa è una cosa che ci deve spaventare. Quindi coinvolgere le donne, farle sensibilizzarle alla tutela della propria salute è una cosa molto, molto importante e approfittiamo di questo mese che è dedicato alle donne. Il Comitato di Quartire Rinascita aderisce a questa iniziativa per aiutare non solo le donne nel nostro quartiere, ma tutte le donne che hanno queste problematiche. Noi siamo sul territorio da circa 20 anni e quindi ci occupiamo di vittime di violenza, però abbiamo sposato questo progetto perché oltre alla violenza c'è anche il problema della salute. Molte donne, soprattutto quelle vittime di violenza, non hanno possibilità economica di poter fare prevenzione. Con questo progetto hanno la possibilità, senza spendere un soldo, di fare un check-up completo. Chiunque volesse fare una visita gratuita lo può fare chiamando la mia associazione e tutte le altre associazioni che partecipano in modo che prenotando quel giorno e il posto potranno soffrire di questo servizio. Piantala con la violenza sulle donne è l'iniziativa promossa dal Corpo Gav contro la violenza. La manifestazione svolta presso il complesso La Salle ha visto la piantumazione di due alberi di mimose e numerosi fiori per tutte le donne vittime di violenza. I fiori ai piedi di una statua raffigurante la Vergine Maria ritrovata nei rifiuti dal Presidente Onorario del Corpo Gav che è stata prima restaurata e poi posta nei pressi della tendostruttura. In occasione della giornata internazionale della donna abbiamo voluto dare un segnale, qualcosa di prettamente simbolico piantando delle piantine per abbellire il ritrovamento di questa madonnina che è stata trovata qualche tempo fa dal nostro Presidente Onorario Salvatore De Chiara tra i rifiuti ed è stata restaurata per volontà dell'Associazione Corpo Gav dal Maestro Fortunato e in questa occasione, essendo che la nostra associazione di volontariato si occupa di violenza e contro la violenza in genere si occupa quindi di tematiche ambientali ed animali ma non soltanto abbiamo deciso quindi di occuparci di fare questo gesto simbolico in occasione della giornata internazionale della donna quindi contro la violenza in generale. Un periodo storico forte ma al contempo delicato che non deve però distogliere la nostra attenzione dal ricordare eventi quali la giornata della donna. Non dobbiamo far sì che il periodo brutto, bruttissimo, storico che stiamo vivendo oscuri poi tutto il resto tutte le altre manifestazioni che non devono essere chiaramente anche soltanto virtuali che non devono essere assolutamente tralasciate anzi oggi più che mai la violenza è ancora presente specialmente in questo periodo e coinvolge un po' a tutte le fasce d'età non soltanto il genere femminile purtroppo. Enesimo passo falso della Turis contro il Foggia i Coralini cadono tra le muramiche per 3 a 1 la Turis parte bene l'attacco Coralino formato da Persano e Boicuc però pecca di cinismo sotto porta non riuscendo a concretizzare le numerose occasioni avute la Turis si difende dal velletario il mai decisivo attacco del Foggia ma è costretta a capitolare al 22esimo quando Curcio si inventa il gol della serata volando in rovesciata nulla può il portiere Coralino dura solo 5 minuti però il vantaggio pugliese al 27esimo infatti da un calcio d'angolo Loreto riesce ad insaccare in rete e portare il risultato sull'1-1 nel secondo tempo la musica cambia i Coralini calano l'intensità e i rossoneri prendono campo sale la tensione e con essa anche gli errori come quello che porta il Coralino Lorenzini già ammonito a prendere il secondo giallo che lo condanna all'espulsione gli uomini di Caneo riescono a tenere testa agli attacchi spasmodici dei pugliesi con il risultato che resta invariato fino all'ottantesimo minuto quando da un cross in aria arriva l'autorete di Ferretti che calcola mare l'intervento e spinge la palla in rete la chiude a due minuti dalla fine nuovamente Curcio che condanna i Coralini all'ennesima sconfitta ora la situazione in classifica per la squadra di Torre del Greco è pericolosa il vantaggio al play-out si riduce sempre di più ora 5 lunghezze dalla Turis che però non ha la sua il calendario che la vede protagonista di sfide ostiche soprattutto nella fase conclusiva del campionato domenica prossima derby contro la Juve Stabia e con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it chiamando al numero 340 65 61 484 con questo è veramente tutto arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro TG un'email